Marco Bigoni, è un momento un po' particolare perché il Chieti gioca anche a Poggi Bonzi, domenica scorsa tante occasioni, però i risultati non sono arrivati, che fare? Sicuramente c'è da cambiare un po' la strada perché se continuiamo a incrementare il gioco e poi perdere le partite non va bene. Cerchiamo invece di dare sempre di più ogni domenica cercando di evitare gli errori banali e vedremo che porteremo a casa il risultato domenica. Senti, domenica soprattutto si è visto un primo tempo con un avversario che non era riuscito ad impensierirvi e poi invece nella ripresa la partita è cambiata. Che cosa c'è stato? Un calo fisico, un calo mentale, disattenzione, cosa? Forse un leggero calo fisico, ma secondo me il Gavorrano ha preparato la partita così, molto indietro e ripartivano in contropiede. Loro avevano preparato così la partita sia nel primo che nel secondo tempo e quindi sono stati bravi loro nel contropiede, ha concluduto le relazioni in modo positivo, mentre noi non siamo riusciti a ottimizzare il massimo. Sei arrivato anche vicinissimo al gol con un colpo di testa clamoroso? Eh beh, speravo che andasse dentro anche perché almeno eravamo di due a due e non c'erano tutte queste discussioni che c'è adesso. C'è già la Versa alle porte, che squadra è? Solita squadra che in casa immagino faccia le cose migliori almeno a vedere il ruolino? Sì, sì, la Versa è sempre una squadra che si deve salvare, di solito quando vai in casa di quelle squadre che si devono salvare è sempre molto dura fare il bottino pieno. Tu sei un po' tra i più esperti di questa squadra, rispetto della giovanissima età, dove può arrivare il chiede? Beh, adesso pensiamo domenica dopo domenica a giocare bene e a fare i più risultati possibili. Dopo, verso gennaio e febbraio, si stileranno le somme. Grazie a tutti.